Un vero e proprio percorso all'insegna della cucina itinerante che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale. Si tratta dell'International Street Food, tra le più gettonate manifestazioni italiane di street food, che ha scelto Brindisi e il suo piazzale a legno flacco tra le tappe della quinta edizione. 25 le stand, 20 dei quali dedicati al food e 5 alla birra. Gli avventori hanno da scegliere tra rosticini abruzzesi, bombette pugliesi, lampredotto toscano, coppo di pesce napoletano, le prelibatezze dell'hamburgeria gourma italiana, la cucina messicana, argentina, greca e la paella valenziana. Presente anche un track con prodotti siciliani e un banco pugliese con panzerotti e fritti di vario tipo. E poi, oltre ai birrifici italiani, anche quelli provenienti dalla Repubblica Ceca, Inghilterra e Germania. Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, senza tralasciare le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Bella manifestazione per due motivi. Primo perché dopo quasi due anni fermi la gente ha voglia di aggregazione, ha voglia di frequentare la propria città. Secondo perché il cibo ovviamente è la cosa più buona del mondo e abbiamo voglia appunto di assaggiarlo tutto. Poi specialmente in questa manifestazione dove ci sono 25 cucine, 5 birrifici artigianali, insomma la culina in bocca viene solo a parlarne.